E Radio Radicale, siamo con Benedetto della Vedova per parlare di elezioni europee e non per parlare del terzo mandato dei sindaci, di queste cose qua, ma del decreto 7 che diciamo cambia un po' le regole per la presentazione delle liste in vista delle europee, che è oggetto di una polemica non solo per più Europa ma anche per Alternativa Popolare, per Sud, Chiama Nord e altri soggetti politici che sono rappresentati anche qui in Parlamento, ma non direttamente al Parlamento europeo come soggetto politico. Allora che cosa sta succedendo Onorevole della Vedova? Ma innanzitutto c'è una questione di metodo. Le firme si possono raccogliere nei sei mesi precedenti le elezioni, quindi siamo già abbondantemente a metà quasi di questo periodo. Quindi intervenire su il tema dell'esenzione della raccolta delle firme in questo momento sia fatto in passato? Sì, ma sempre allargando la platea delle esenzioni, mai restringendola, cioè senza mai intervenire come sarebbe in questo caso per più Europa, dicendo a... non so quando verrebbe poi ratificato il decreto, quando la norma diventasse legge perché è dentro la conversione del decreto, dicendo a due mesi dal voto, o tre mesi dal voto, dicendo a regole cambiate, non esiste regole cambiate, e tu invece devi cominciare a raccogliere firme. Questa è la ragione perché lui, secondo me, questo emendamento fallirà. Perché la Meloni, che si rende orgogliosa di essere un underdog venuto dal piccolo partito, non è che adesso può infierire, sarebbe scorretto, inaccettabile. Anche perché più Europa per tre elezioni di fila ha fatto oltre 800 mila elettori per ciascuna elezione. Abbiamo fatto il 2,94, abbiamo parlamentari eletti, una componente del gruppo misto, facciamo parte di una famiglia europea dalla fondazione, cioè dall'Alde, e da un giorno all'altro vorrebbero toglierci l'esenzione della raccolta delle firme che noi abbiamo sui due fronti, sul fronte interno, gli eletti e la componente, eventualmente sul fronte europeo. Nel decreto questa cosa non c'è, c'è stato un emendamento. Chi l'ha presentato? L'emendamento di conversione è presentato al Senato, non mi ricordo il nome, comunque da Fratelli d'Italia. Ho capito. Allora, l'emendamento comporterebbe per voi di più Europa la raccolta di quante firme? Anche digitalizzate? Sono una quantità di firme enorme, devo dire la verità, non so se sono di 250 mila, potrei sbagliare. Ho capito. Perché io in questo momento ne faccio solo una questione. Ma si possono raccogliere con lo speed che lei sappia? Credo che non si possano ancora raccogliere con lo speed, peraltro le firme. Quindi sarebbe una cosa enorme? Cioè una cosa? Poi se uno lo sa si organizza, ma è uno sforzo di dimensioni significative. Chiedere a una cosa come più Europa di testimoniare di non essere un finto partito, ma un partito vero, poi fa anche ridere. Alle ultime elezioni europee abbiamo fatto il 3-1% nel 2019. In Germania, dove la Corte Costituzionale ha abolito la soglia, dicendo che a livello nazionale la soglia può restare perché si tratta di compensare il principio di rappresentatività e il principio di governabilità. Alle elezioni europee è tutto principio di rappresentatività e quindi la soglia non si tratta. Perché se poi il Parlamento europeo deve votarla la Commissione, deve votare i commissari. Sì, però non è che tu voti in Italia, ma non è per governare in Italia. Certo, per governare l'Europa. Anzi, no, magari l'esistenza della soglia implica che non ci sarà una maggioranza in Europa perché magari restano fuori i liberali e entrano i sovranisti e la von der Leyen si trova con meno voti. Quindi non è un tema questo. Quindi io sono fiducioso del fatto che questo emendamento sarebbe una vergogna se rimanesse in piedi e venga tolto. Poi se l'abbiano fatto, suggerito, scritto, per mettere in difficoltà più Europa o qualcun altro, non lo so. Mandecchi? Mandecchi non credo che abbia un partito, quindi magari è anche... Alternativa Popolare, è un partito... Sì, ma non so in che condizioni si trova. Certo, se è una lista che parte da zero deve raccogliere le fine, però questo si sa e si sapeva dall'inizio. Se è un partito esistente che ha alcuni connotati che lo dimostrano, direi che... Ma sarebbe la cosa paradossale sarebbe che noi moderati, che non hanno fatto l'1% nelle scorse politiche e quindi ha eletto solo sui collegioni nominali, avrebbe l'esenzione. Più Europa, che ha fatto il 3%, non avrebbe l'esenzione perché gli viene tolta, cioè sarebbe una roba veramente un po' grottesca. Quindi sono certo che Maloni non lo sa, appena glielo spiegano, dice vabbè togliamo di mezzo sta roba. No, ma il fatto che non l'abbiano messo direttamente nel decreto 7 significa che, insomma, non ci hanno avuto la faccia, cioè hanno detto andate avanti voi che a noi ci viene da ridere. Però, esattamente, ripeto, è capitato che a partita aperta, cioè nel tempo in cui si raccoglieva le firme, venisse ampliata la platea delle liste esenti dalla raccolta delle firme. Sarebbe di una gravità inaccettabile che a partita aperta si restringa, modificando la legge, si restringa la platea perché questo sarebbe scorretto. Quando la ampli non fai un danno a nessuno, casomai agevoli la partecipazione elettorale di chi sta recogliendo le firme non ce la fai. Se la restringi crei un danno, questo non è accettabile. L'ultima cosa, come l'avete presa questo fatto che adesso tutti stanno cercando a Bonino, che vogliono incontrare la Bonino, si vogliono alleare con la Bonino, con una curiosità perché ho visto sui giornali. Io direi magari poi se arrivasse al punto Emma ha fatto un appello chiaro dal punto di vista politico gli Stati Uniti d'Europa con tutto quello che basta sentire quello che ha detto Draghi ieri. Serve quella roba lì. E quello è un progetto politico decisivo anche per gli italiani, non solo per gli europei, per mantenere un'Europa che non sia ininfluente sul tema della sicurezza generale come oggi e che sia più efficace per garantire libertà e prosperità ai cittadini europei. Quello deve essere il tema, dobbiamo guardare all'Europa, partiamo dalla stessa famiglia politica di Renew Europe, cioè dalle liste che porterebbero gli eletti nello stesso gruppo parlamentare e facciamo una lista di scopo tutti assieme, evitiamo di litigare tra di noi, di rischiare di buttare al macero i voti perché magari fai tre liste che fanno il 3-9 e nessuno elegge e mettiamoci d'accordo sull'Europa non facendoci bloccare dalle questioni italiane. Emma è stata la prima a dire noi diciamo nelle ultime elezioni politiche qualche motivo di lamentela nei confronti di azione ce l'avremmo anche, no? Ma che senso ha? Togliamo di mezzo i personalismi e gli scontri italiani. E uniamoci per gli ideali? Beh, uniamoci per gli ideali e anche per l'interesse ma uniamoci su un obiettivo che comunque è comune portare i parlamentari all'innoio euro che voteranno il 99,9% insieme per i prossimi cinque anni e quindi facciamo campagne uno contro l'altro per portare in Parlamento persone che voteranno le stesse cose allo stesso modo. Non è sensato. Certo. Va bene. Grazie a Benedetto Travedo Speriamo che non passi l'emendamento. Assolutamente. Sono fiducioso. Grazie.